Buongiorno a tutti, grazie. Quello che vado ad illustrare adesso sono alcuni anni di studi che abbiamo svolto all'Università di Udine per cercare di trovare soluzioni innovative per l'enologia. In questo caso si parlerà di applicazione della tecnica ad ultrasuoni nella filiera di produzione, quindi nella filiera vino. E cosa si è cercato di fare? Si è cercato di sfruttare un principio banale che è quello del normale bagneto sonico, delle tecniche ad ultrasuoni che tutti hanno in laboratorio e non sono altro che dei distruttori di cellule che servono quindi a disgregare quelli che sono i condotti cellulari e in particolare le strutture colloidali che fanno parte della cellula ma che possono far parte anche del liquido del mosto del vino. Un breve passaggio sulla parte teorica degli ultrasuoni. Si ragiona in termini di ultrasuoni di potenza quando si parla di frequenze che vanno tra 20 e 100 kHz circa. In sostanza si va a sfruttare un fenomeno che avviene, i tecnici lo sanno anche nelle pompe in cantina, la cavitazione. Cavitazione con dei fenomeni fisici, meccanici, che sono praticamente la chiave di successo di questo trattamento nei confronti delle cellule vegetali e delle strutture colloidali. Parliamo quindi principalmente di esperienze fatte nella zona tra 20 e 30 kHz, con una serie di esperienze in laboratorio mirate a valutare l'effetto appunto della cavitazione, fenomeno chiave che andremo a discutere, su quelli che sono i componenti, su quelli che sono le cellule, i microrganismi, le bucce dell'uva. Considerate che quando si applicano queste frequenze a determinate condizioni di potenza, si aggiungono temperature altissime e pressioni altissime nell'istante, diciamo, in cui si applica la tecnologia con rotuna meccanica, praticamente, delle strutture cellulari. Non è una novità l'ultrasuono, largamente applicato nell'industria alimentare da anni, soprattutto nelle certe industrie con alti valori aggiunti. Ci sono anche applicazioni della sono chimica, con frequenze un po' diverse. Quindi, diciamo, numerose sono applicazioni. Da parecchio tempo trovate in letteratura anche applicazioni, le uniche, diciamo, attualmente operative nel stato neologico che riguardano la sanitizzazione e la pulizia delle barrique, in particolare nell'emisfero su, ci sono queste applicazioni. Qual è stato l'obiettivo del nostro studio? Valutare l'effetto sulle bucce dell'uva, indistintamente, come vedremo, buccia di uva bianca e buccia di uva rossa. Valutare l'effetto su altre cellule, non della buccia, ma sulle cellule del lievito. E vedremo degli interessanti effetti sulla lisi del lievito. Poi, cosa si può fare anche? Cosa si può sfruttare di questa tecnologia? Abbiamo accenato un attimo fa la sono chimica. Quindi la sono chemistry è una branca che sfrutta il trattamento di ultrasuoni per attivare, per far avvenire certe reazioni chimiche. Non a caso, nel settore industriale, gli ultrasuoni sono usati anche in ambito sono chimica come agenti di polimerizzazione e depolimerizzazione industriale. Quindi abbiamo cercato di vedere sui vini, ad esempio, cosa può succedere. In particolare, vini rossi giovani. E questo è un po' lo schema delle possibili applicazioni che abbiamo cercato di studiare. In queste esperienze, inizialmente, vedremo quelle di laboratorio, condotte con delle apparecchiature, diciamo, dei mini sonotrodi, che magari qualcuno ha già in laboratorio, sono abbastanza simili ai bagnetti soni. Si cambia la configurazione geometrica della macchina, un reattore, un generatore, un trasduttore. E qui in fondo, ad esempio, c'è un puntale in titanio dove vengono diffusi gli ultrasuoni. Questa è un po' la composizione, la struttura dell'apparecchio di laboratorio che abbiamo utilizzato. Ovviamente si fanno degli schemi sperimentali, si cerca di valutare più varianti possibile, limitatamente alle capacità di tempo e di spazio in laboratorio. In termini pratici, se ragioniamo alla frequenza di 20 kHz, le potenze applicate in termini di micron con cui si misura l'amplitudine, vengono tra i 51 e i 170, noi siamo arrivati fino a 153 micron di amplitudine, su piani sperimentali dedicati appunto per valutare i diversi effetti. Cosa si può ipotizzare? C'è un effetto di rottura delle cellule, un effetto di rottura, se vogliamo, abbastanza aselettivo, perché andiamo a rompere, senza mezzi termini. Dopo vedremo che è possibile gestire anche i parametri di processo per ottimizzare il tutto in funzione dell'obiettivo enologico. E quindi cercare di rompere le cellule della buccia, questo è stato un po' il primo obiettivo degli studi, e quindi vuol dire rompere le cellule della buccia, macerazione uve rosse, ma non solo, macerazione uve bianche. Chi mi ha pregiudato prima ha evocato la maturità fenolica delle uve bianche, che tutto sommato ha anche il suo significato, non a caso, si fanno sempre più spesso i vini macerati con uve bianche. Questo è un po' schematicamente lo schema sperimentale delle prove in piccolo, utilizzate nelle nostre esperienze, e sono stati valutati i principali parametri analitici, diciamo inizialmente anche alla portata dei laboratori presenti nelle cantine dove si opera. Alcuni risultati essenziali sulle bucce, qui si vede, anzitutto, in funzione del tempo e della potenza applicata in termini di amplitudine, significativi incrementi in termini di polifroni totali, in termini di antociani e ovviamente in termini di intensità colorante. I parametri aumentano proporzionalmente con il tempo di trattamento e la percentuale di amplitudine, dicasi potenza. Ovviamente in tempi molto brevi, se qui andate a vedere i tempi, un minuto, due minuti, tre minuti, questo è il confronto rispetto a metodiche, le stazioni in tempo reale rispetto alle metodiche tradizionali che si usano in laboratorio. E quindi tempi di trattamento veramente brevi, che assolutamente, ad esempio, non creano danni, come vedremo poi nei vini, ad esempio di aumento di temperatura. Se voi mettete un campione in un bagnetto sonico, lasciate un campione in un becker sul puntale, abbiamo visto poc'anzi, se lasciate lì per 10-20 minuti potete cuocere la pasta asciutta, diciamo, quindi questo si evita assolutamente. E qui, grazie anche alla collaborazione dei vivai di Rauscedo, abbiamo potuto testare tante varietà rosse, tutte quelle a disposizione, nei loro campi sperimentali, e questo ci ha consentito di avere una buona base statistica sull'effetto di estrazione in tempi rapidi di quelli che sono i polifroni totali e gli antociani, oltre ovviamente a tutto il resto, nelle diverse varietà. Le varietà non rispondono allo stesso modo, questo vuol dire che dipende dalla struttura, dalla struttura della buccia, non solo, diciamo, è una estrazione, sì, poco selettiva per il momento, però dipende comunque dalla struttura base della cellula. Questo vale anche per le macerazioni tradizionali, quando vengono gestite in cantina. Qui vediamo brevemente il colore, rende bene l'idea di quella che è l'estrazione in tempi brevissimi, due minuti, tra un campione di uva e un campione di uva trattata con ultrasuoni. Quindi il tempo di trattamento veramente rapido, con ottimi risultati, con una, diciamo, ottima anche significatività statistica in termini di estrazione del colore, in funzione della potenza applicata. Abbiamo fatto anche delle piccole prove in cantina, in condizioni reali di cantina, su piccole macerazioni, per valutare un po' quello che è l'obiettivo principale della macerazione delle uve rosse, intanto. Ridurre i tempi di macerazione. Vuol dire, ad esempio, anziché fare 8-10 giorni di macerazione, cerchiamo di ridurre i tempi, estraendo subito, sul pigiato, le sostanze polifenoliche. Non parleremo solo di colore, ovviamente, ma anche di tannini. estrarre colore solo, quindi solo antociani, tanto per intensi, non avrebbe nessun significato nell'ottica di produrre i vini, soprattutto i vini di riaffinamento. I risultati ci hanno consentito di verificare che, ad esempio, su uno standard di macerazione di cantina di 5 giorni, si possono guadagnare, praticamente, fino a 2-3 giorni di macerazione. Praticamente, rispetto a 5, un po' più anche del 50%. Quindi, questo vuol dire che noi facciamo lo stesso vino, estraiamo le stesse sostanze in minor tempo, che vuol dire, in termini pratici, con minori costi della cantina. Ogni tecnica che viene applicata ha degli obiettivi precisi. In questo caso, non si pretende di estrarre in macerazione con i trasuoni e fare un vino per forza migliore. L'obiettivo primario è innanzitutto ridurre i costi di produzione e di mesare i tempi, che comunque rappresentano un buon vantaggio per l'operatività di cantina. Anche i vinaccioli interi subiscono degli effetti. Durante la macerazione dell'uva abbiamo anche i nostri vinaccioli. Come vedete, dall'esperienza, è stata evidenziata una significativa estrazione di sostanze fenoliche etaniche dei vinaccioli. Positivo o negativo dipende dalla maturità del vinacciolo. Ma queste sono questioni che deve valutare l'enologo prima di portare l'uva in cantina, vale a dire valutare la maturità dell'uva per poi gestirla al meglio. Con l'estrazione, facilitando l'estrazione, noi rompiamo le strutture cellulari, rompiamo le pectine, rompiamo in sostanza le strutture che trattengono anche il liquido e quindi inevitabilmente aumentiamo anche la resa in succo. è lo stesso effetto che voi sfruttate utilizzando gli enzimi pectolitici anche in vinificazione sul pisato. Quindi nulla di nuovo, in questo caso, con tempi brevissimi di trattamento, 1, 2, 3 minuti al massimo. Altro aspetto che abbiamo valutato in modo abbastanza approfondito con le ricerche svolte, le fece di lievito, diciamo residui, io non le chiamo fece, c'è le lezioni che fece anche a me, diciamo residui nobili di fermentazione, rendendo proprio l'idea. Quindi un patrimonio che noi possiamo sfruttare o facendo svolgere la lisi naturale del lievito oppure possiamo accelerare con un trattamento con ultrasuoni che ha il compito di rompere appunto la struttura cellulare consentendo la liberazione e la solubilizzazione di componenti che sono incastrati, diciamo, in mezzo ai glucani, in mezzo ad altre strutture della cellula. Quindi si è valutato l'effetto litico sulle cellule di lievito utilizzando fece di fermentazione e potremmo tralasciare i dettagli sulle metodiche analitiche utilizzate e il tutto è stato confrontato anche con quello che si fa normalmente in cantina, vale a dire la lisi del lievito nelle condizioni di cantina, quindi mesi, oppure l'accelerazione con l'impiego di preparati a base di beta-glucanasi, pratica abbastanza comune per accelerare appunto i tempi di lisi del lievito. Un qualche risultato significativo, colloidi tali, solubili, vedete un incremento interessante rispetto al campione non trattato, anche con un minuto di trattamento, però le cose aumentano, le cose migliorano con 5 minuti, seppur con 30% di potenza, quindi neanche alle potenze altissime. potenza vuol dire sì effetto, ricordarsi sempre potenza applicata vuol dire anche energia applicata per utilizzare la tecnica ad ultrasuoni, quindi vanno a considerare anche i costi energetici nel bilancio complessivo di una tecnologia. Estrazione anche di proteine, dai lieviti non escono solo manoproteine, ma escono anche proteine, escono tante sostanze, sostanze aromatiche, nucleotidi, nucleosidi, quindi se in questo caso ha un significativo effetto anche sulle proteine, sempre anche con tempi brevi e non necessariamente alle potenze più alte di applicazione. Approfondimenti analitici hanno consentito di verificare l'estrazione in termini di glicoproteine, quindi quella classe di composti ben ricercata appunto con la legge del lievito e che ci garantisce stabilità a 360 gradi da quella sensoriale a quella chimico-fisica nei nostri vini. altre esperienze sempre che evidenziano l'incremento in colloidi con le varie tecniche di rilevazione cromatografica ha conferma che con un brevi trattamento di ultrasuoni sulle fece di lievito che non vuol dire trattare tutta la massa di vino ma la fece appompabile si riesce ad ottenere un preparato dove già sono stati estratti componenti solubili utilizzabili poi nel vino. altre esperienze evidenziano il confronto con i tempi lunghi di affinamento sulle fece oppure con l'impiego anche di enzimi a base di enzimi quindi pectolitici contenenti altre attività beta-glucanasi che vedete hanno praticamente degli effetti significativi in questo caso l'effetto degli ultrasuoni è superiore addirittura all'effetto degli enzimi ovviamente se andiamo nei tempi lunghi non ha senso fare il confronto si fa un confronto è come confrontare diversi enzimi in chiarifica dopo 10 ore che sono lì non troverete nessuna differenza quindi il confronto va fatto per i tempi brevi il significato è accorzare i tempi e ridurre l'impiego di enzimi o l'impiego di mesi per effettuare l'affinamento sulle fece e quindi i risultati confermano che in tempi brevi praticamente è possibile utilizzare la tecnologia di ultrasuoni per diciamo agevolare la lisi del lievito sempre per la parte di esperienze di laboratorio quindi indagini preliminari si è cercato di valutare anche cosa succede nei vini nei vini visto che dalla letteratura si sono riportate attivazioni di radicali nelle in queste condizioni di frequenza e quindi l'ipotesi era di verificare la variazione a carico di tannini e di antaciani per questo sono stati utilizzati dei vini giovani sono stati valutati alcuni parametri che abbiamo ritunto fondamentali qui vedete la variazione di catechine in funzione della potenza applicata e del tempo applicato non siamo andati oltre i 5 minuti perché non avrebbe senso proporre una tecnica in cantina avendo già visto risultati interessanti a un minuto una tecnica per 20 minuti si farebbe il vin brulè o qualcosa di simile qui vedete interessante sempre per effetto dell'amplitudine e del tempo la variazione dell'indice di HCL per gli studenti non solo che sono qui presenti sapete che l'indice di HCL messo a punto dal professor Glorie è un'indicazione dei polimeri tannici che ci sono e quindi c'è un'evoluzione positiva in termini di polimerizzazione l'intensità colorante è un leggero incremento positivo in tutte le esperienze non è stato riscontrato nessun danno a carico degli antociani libri quindi non vengono distrutti per effetto degli ultrasuoni altre esperienze di trattamento vini sono stati valutati alcuni parametri che ovviamente non devono cambiare come ad esempio la quantità di antociani non deve cambiare eventualmente si valuta la loro polimerizzazione con i tannini presenti campioni diversi con risultati diversi il dato più significativo diciamo è stato la variazione a carico dell'indice di HCL quindi un'evoluzione tannica positiva in questi vini trattati tutto quello che vi ho raccontato finora lo trovate anche pubblicato sulle riviste del settore e tutto è partito dall'Enaforum 2011 dove abbiamo presentato i primi risultati appunto ad Arezzo penso 2011 non mi ricordo sia Arezzo o Piacenza poco importa ecco da lì sono state ovviamente come attività di ricerca in università le cose vengono pubblicate devono essere anche rese a disposizione adesso siamo al passo successivo si intravede una possibile applicazione quindi si cerca di fare qualcosa di più operativo in previsione di una autorizzazione di questa tecnica e quindi troveremo esperienze su piccoli volumi ben si intende in cantina su macerazione del pigiato lisi del lievito e sempre trattamento di vini rossi giovani siamo nell'ambito di frequenze tra 20 e 30 kHz tempi di trattamento 1 a 5 minuti con possibilità di fare trattamenti in continuo ma anche in discontinuo qui siamo ad esempio dai nostri amici in Croazia e altre esperienze in Italia esempio su Raboso qui vedete che con 5 minuti di trattamento sul pigiato di uva Raboso si riescono ad anticipare se andate a vedere esattamente le differenze in termini di intensità colorante nel tempo si dimezza praticamente il tempo di macerazione a tutto vantaggio della gestione delle uve in cantina e soprattutto magari per la gestione migliore dei conferimenti delle uve soprattutto nelle grandi cantine a fronte dell'accorciamento di tempi di macerazione è stato riscontrato anche un aumento di acidità nei campioni altro esempio su Amarone perché abbiamo fatto l'Amarone non perché abbia un significato come applicazione della tecnica praticamente poco il vino Amarone nella panoramica mondiale ma perché rappresenta un bel banco di prova in considerazione che ci trate di un'uva appassita e quindi in una situazione abbastanza estrema per l'applicazione degli ultrasuoni anche in questo caso significative riduzioni della macerazione qui vedete in tempo reale la differenza di trattamento del pigiato di Amarone e poi i risultati diciamo migliori in termini di colore sono stati anche riscontrati e sono mantenuti nel vino durante la sua evoluzione detto prima parlare di macerazione vuol dire parlare di macerazione di uve rosse e uve bianche è quello che facciamo a quella lezione la macerazione non riguarda solo l'uva rossa va gestita perché se c'è un patrimonio importante nell'uva che si tratti di aromi che si tratti di polifenoli si cerca di sfruttarli per avere per estrarre il vero potenziale enologico di quell'uva per non lasciarlo nella vinaccia e quindi per non disperderlo nelle varie forme con cui si utilizzano la vinaccia esperienza su uve bianche in questo caso vedete un testimone non macerato esperienze di macerazione lunga in cantina qui siamo su Traminer ovviamente estraiamo anche i polifenoli se io ho una tecnica con l'obiettivo di estrarre aromi è impensabile non estrarre polifenoli viceversa e quindi diciamo si cerca di ottimizzare i benefici limitando i danni in questo caso vedete non sono state estratte la quantità enorme di catechine che vengono estratte con una macerazione lunga in questo caso si tratta di 10-15 ore di macerazione su pigiato le valutazioni di alcune sostanze aromatiche in queste varietà hanno confermato come si osseverà poi anche delle valutazioni sensoriali che non ci sono motivi per diciamo non utilizzare questa tecnica a confronto col testimone rispetto ad alcune classi di sostanze aromatiche che qui vedete riportate nelle figure su Traminer e su Moscato se il pigiato d'uva necessariamente deve essere trattato tutto ovviamente devo trattare tutto il pigiato per avere questo effetto non è così per le fecce non si tratterà tutto il vino che contiene l'1-2% di fecce si tratterà la feccia sedimentata nella vasca in situazioni di feccia pompabile in previsione di utilizzarla poi sui vini qua vedete esperienze di feccia di manzoni bianco incremento in polisaccaridi significativo rispetto al campione non trattato queste fecce poi sono state aggiunte su un vino diciamo microfiltrato simulando quello che sarebbe il contenuto in sostanze solubili derivanti della lievito in mesi di affinamento qualche dato su vino anche qui esperienze sempre in piccolo ma in condizioni reali di cantina vedete incrementi di intensità di colore nel refosco nel marlot devo dire che il refosco è la varietà che ha reagito meglio questo dipende probabilmente dalla sua composizione base in termini di sostanze fenoliche però è interessante vedere qui che ad esempio il trend di crescita rispetto al tal quale non è in tempo reale e questo potrebbe diciamo essere legato all'attivazione di reazioni di polimerizzazione che non avvengono nel minuto di trattamento ma dopo un po' di tempo di conservazione del vino veniamo agli aspetti sensoriali che sono sempre quelli che alla fine dobbiamo valutare noi facciamo vino per degustarlo per berlo quindi il tutto è finalizzato all'ottimizzazione sensoriale dei nostri vini su Amarone sono state osservate preferenze generalmente sull'attegi che abbiamo visto prima trattata sul pisato con ultrasuoni lo stesso si è verificato su Manzoni 6013 tutti conoscono il Manzoni 6013 immagino Prosecco o meglio Glera fate voi trattasi di macerazioni sempre per tempi di 1-5 minuti dove diciamo sono state apprezzate le caratteristiche organolettiche o dove perlomeno non ci sono stati peggioramenti l'obiettivo minimo è utilizzare una tecnica per sostituire magari la macerazione nessuno non necessariamente il vino deve diventare migliore trattamento su vini rossi giovani refosco e merlot anche qui esperienze interessanti vini valutati in tempo diciamo subito dopo il trattamento con buoni apprezzamenti a livello di esperienze sono state fatte anche prove a 20 minuti con un aumento massimo di un grado centigrado di temperatura però diciamo il vino era ormai diciamo in fase diciamo fine vita diciamo quindi diciamo 20 minuti utilizzati solo per evidenziare che non ha senso trattare per tempi lunghi 1-5 minuti sono le condizioni migliori preferenza sia su merlot che su refosco interessante anche con significatività nel caso della nota floreale per il merlot e della nota amara per il refosco andiamo ora alle uve bianche trattate in condizioni di cantina con ultrasuoni obiettivo in questo caso eliminare la macerazione i risultati qui siamo su su prosecco come tempo ci sono sì direi di sì il prosecco con degli effetti significativi perlomeno c'è almeno una tesi trattata con ultrasuoni equivalente al testimone di cantina ripeto l'obiettivo minimo è ottenere lo stesso vino e lo stesso dicasi per il traminer con risultati sensoriali interessanti ed effetti significativi moscato nessun effetto significativo sull'apprezzamento sensoriale vuol dire che i vini sono stati giudicati uguali questo è diciamo l'obiettivo minimo che ci siamo prefissi in queste esperienze l'obiettivo minimo ottenere lo stesso risultato della tecnica tradizionale quindi in questo caso anche la non significatività statistica è un ottimo risultato queste sono esperienze del 2016 su Sauvignon su Malvasia Sauvignon in Spagna Sauvignon in Italia Malvasia in Croazia anche qui trattamenti da 1 a 3 minuti di tutto il pigiato a confronto magari anche con macerazioni lunghe mediamente è stato apprezzato il prodotto trattato con ultrasuoni o perlomeno non è stato diciamo declassato rispetto alla tecnica tradizionale in questo caso quindi relativamente alle esperienze fatte nel 2016 su tutti i descrittori sensoriali e questa è la degustazione fatta un mese fa con un panel addestrato qui vedete nessuna differenza significativa per tutti i descrittori obiettivo base del trattamento i vini erano equivalenti però in un caso si faceva la macerazione di 5-6 ore in questo caso in pressa nell'altro caso il prodotto è stato passato per un minuto o 3 minuti al massimo in ultrasuoni e basta quindi la macerazione è quella eliminata completamente e questi sono gli effetti sull'intensità dell'olfato la gradevolezza dei vini non sono ribotati i numeri però diciamo interessanti anche i dati dei tioli totali bruttati col metodo della DTO di piridina che hanno dimostrato se non valori equivalenti addirittura un leggero incremento nelle tesi trattate con ultrasuoni lo stesso dicasi per Sauvignon esperienze in Spagna e Malvasia esperienze in Croazia la significatività statistica di trattamenti va intesa come potenzialità di gestire la tecnica ad ultrasuoni questo cosa vuol dire anche se viene come abbiamo osservato per alcuni caratteri ad esempio nell'alisi del lievito se emergono differenze significative noi le dobbiamo sfruttare vuol dire che c'è margine operativo seppur nel tempo breve di trattamento tra 1 e 3 minuti e potenza noi possiamo gestire questi due parametri per ottimizzare il risultato in base ai nostri obiettivi vinologici lo stesso le differenze non significative evidenziate nei vini fatti quest'anno confermano che la tecnica può assolutamente bypassare la tradizionale macerazione delle uve bianche non contenti stiamo ovviamente proseguendo le nostre attività cercando di sviluppare qualcosa che possa essere utilizzabile in cantina sicuramente per ridurre i costi per agevolare le operazioni di cantina lavoreremo anche con dei sensori di processo per ottimizzare questi parametri nel pigiato nel vino o nella feccia e valuteremo anche gli effetti nel tempo magari anche sulle sostanze aromatiche ovviamente tra i lavori in corso c'è anche la richiesta di risoluzione oive che sembra necessaria per l'autorizzazione di questa tecnica è richiesta dell'autorizzazione oive che mi risulta sia partita da più parti di livello europeo quindi questo diciamo fa ben sperare magari per una diciamo un'autorizzazione diciamo che non avvenga magari fra 10 anni e quindi l'intenzione è di realizzare un reattore applicabile in cantina utilizzabile dalla macerazione perché no magari anche nella vendemia meccanica all'affinamento quindi utilizzarlo per vari obiettivi di processo e stiamo valutando altri aspetti ovviamente non solo quelli citati che sono quelli che trovate anche nelle pubblicazioni che abbiamo visto prima e quindi c'è anche ulteriore margine di lavoro per la ricerca e probabilmente anche per i tecnici per ottimizzare questa tecnica a livello di filiera enologica per ridurre i costi per ridurre ad esempio l'impiego di enzimi pectolitici ridurre il tempo di affinamento sulle fezze limitare l'impiego di derivati di lievito se facilitiamo la legge del lievito magari risparmiamo l'aggiunta di codiuvanti enologici io sono sempre a favore del conoscere tutti i codiuvanti per utilizzarli il meno possibile per la gioia delle aziende che vendono prodotti però diciamo l'impiego deve essere ragionato di tutti i prodotti riduzione dell'anidide solforosa stabilizzazione dei vini senza o con una limitata gestione di codivanti esogeni ovviamente rispetto della qualità e perché no valorizzare anche i sottoprodotti della vinificazione pensiamo poi alle vinace ad esempio alle fece da estrarre di cui poi ascolterete un'interessante relazione del dottor Natolino nella sessione successiva e questi elementi penso che possano far rientrare la tecnica proposta come una tecnologia sostenibile io ringrazio ovviamente anche le aziende che supportano la ricerca ecotecnica TNCI Padovan e già tanti tesisti sono passati ma li trovate scritti nelle pubblicazioni e attualmente in corso d'opera i due collaboratori che vedete qui elencati e vi ringrazio per l'attenzione grazie